Presentando il numero 55 della rivista Alternative per il socialismo, intendiamo proporre un tema che è essenziale, che investe la modernità, cioè il rapporto tra il lavoro, l'automazione e l'intelligenza artificiale. I processi di automazione sono ormai massivi e interessano tutti gli aspetti della vita produttiva, ma anche della vita dei cittadini. All'inizio degli anni Ottanta è iniziata l'automazione, che ci è conclusa per esempio per il ciclo dell'auto negli anni Ottanta, nei servizi e credo che oggi siamo di fronte a un ulteriore salto di qualità. Si ritiene che il 47% dei lavori nelle società avanzate saranno oggetto di automazione. Questo fatto determina un cambiamento radicale nel lavorare, nel produrre e nel vivere. Da questo punto di vista è necessario che le forze che si interessano del lavoro, dalle forze politiche, le forze sindacali, maneggino completamente questa tematica e trovano il modo di rappresentare gli interessi fondamentali di chi lavora e di chi sarà costretto a non lavorare o a lavorare in maniera differente. È per questo che questa tematica oggi riveste una centralità così importante. Siamo molto contenti di essere stati invitati a questa iniziativa importantissima perché tocca gli argomenti che ci ritroveremo davanti nei prossimi anni, cioè quella della trasformazione del lavoro nel contesto digitale e dell'intelligenza artificiale. È un tema molto importante che mette molte contraddizioni sul piatto della discussione e che deve vedere il sindacato impegnato da subito a capire quali possono essere le risposte per tenere insieme i lavoratori, lo sviluppo e il progresso senza impoverire le professionalità e soprattutto le comunità che in questo contesto poi vivono. Questa iniziativa organizzata da OmbreLeft è molto importante e noi come sindacato dovremmo cercare di approfondire anche temi che sono stati sollevati nella rivista Alternative per il Socialismo. Credo che nella nostra regione ci sia un problema di innovazione tecnologica che sicuramente va gestita, contrattata e evitando che le innovazioni tecnologiche vengano utilizzate dagli imprenditori in una logica autoreferenziale di accumulazione del profitto. Tra l'altro spesso nella nostra regione succede che in alcune realtà, tipo il lavoro nelle cooperative di facchinaggio, il costo del lavoro è talmente basso che gli imprenditori invece di investire in innovazione preferiscono sfruttare nel senso vecchio tradizionale le persone, quindi come dice appunto anche Francesco Garibaldo è una sfida importante per il sindacato perché dipende da come riusciamo a portare avanti un ragionamento che nell'innovare valorizza il fattore lavoro in Umbria, il problema è estremamente importante. Stasera in questa conferenza affrontiamo un tema molto interessante, molto interessante per l'avvenire di tutto il pianeta, anche se ancora nella nostra piccola regione gli effetti della trasformazione di cui parleremo stasera non è ancora del tutto visibile. Che cosa intendo dire? Noi parliamo stasera dei processi di automazione, intelligenza artificiale e i loro effetti sulla organizzazione del lavoro e sull'organizzazione sociale. La discussione è molto interessante, complessa, riprende un filone di dibattito che ha avuto un grande spessore soprattutto negli Stati Uniti e anche in Europa, adesso anche in Italia se ne discute e si comincia a prendere consapevolezza che siamo di fronte a una trasformazione epocale. Ne va di mezzo sostanzialmente il futuro del lavoro e il futuro dell'occupazione con il rischio che gli studi che sono stati compiuti di cui stasera parliamo con il rischio, dicevo, di una perdita di significato del lavoro e di una perdita anche del volume del lavoro necessario per la produzione. Diminuiscono i lavoratori, aumenta la produttività, il risultato a lungo termine potrebbe essere un fenomeno di disoccupazione di massa e di ridistribuzione profondamente ineguale del reddito. In Umbria siamo agli albori, di questo processo. Nonostante questo soffriamo anche noi nella nostra regione di una potente crisi di diminuzione dell'occupazione, però qui il fenomeno non è imputabile alla disoccupazione tecnologica, qui è imputabile piuttosto all'arretratezza del nostro sistema industriale, al fatto che si facciano pochi investimenti in innovazione e al fatto che le nostre attività produttive sono ancora di carattere molto arretrato rispetto a quello che accade nel resto dell'Italia e nel resto dell'Europa. Certo ci sono anche qui delle realtà avanzate, ma non riescono a contrassegnare il momento complessivo delle nostre economie, soprattutto nel nostro sistema industriale. In Umbria l'industria cala, diminuisce, il suo contributo al prodotto interno lordo della regione e alla catena del valore è sempre minore. I lavoratori occupati diminuiscono e quindi noi siamo di fronte anche qui, pur senza i fenomeni di automazione, a un processo di disgregazione dell'attività produttiva e anche di distruzione di lavoro. Saprà la politica innanzitutto e poi anche le formazioni sindacali opporsi a questo processo. Noi studiando il processo in generale che avviene nel mondo speriamo assolutamente di sì, perché se tutto questo procede senza una opposizione sociale, un'opposizione politica di un qualche rilievo, i rischi per l'avvenire del mondo, dell'Italia, della nostra regione sono veramente gravissimi. Allora presentiamo oggi qui a Perugia alternative per il socialismo numero 55, che è una rivista che dura da 11 anni, una rivista di carattere politico che però si occupa di vari temi e questa volta il numero è particolarmente dedicato a un tema fondamentale che è quello dell'intelligenza artificiale e della massiccia robotizzazione nel mondo del lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano dal punto di vista della libertà della persona e dal punto di vista della potenzialità occupazionale. L'introduzione massiccia della robotizzazione nel sistema industriale sta provocando un fenomeno a livello internazionale che è quello della disoccupazione tecnologica e la quale va combattuta non certo impedendo l'introduzione dei robot, questo non è possibile, ma contrattando gli algoritmi che governano la produzione e la prestazione lavorativa e soprattutto riducendo l'orario di lavoro perché la produttività in questo modo sale e non v'è più bisogno di dilatarlo dentro la giornata. Bisogna combattere anche un altro aspetto, cioè il sistema capitalistico che utilizza i nuovi sistemi digitali come il cosiddetto capitalismo nelle piattaforme usa massicciamente il lavoro precario e il lavoro a volte anche assolutamente non pagato, questo richiede quindi che vengono portati diritti nei settori precari, ma richiede anche che ci sia una retribuzione minima oraria al di sotto della quale nessuno può scendere e che si affronti finalmente il grande tema della riduzione dell'orario di lavoro nell'arco della giornata, nell'arco della settimana, nell'arco della vita lavorativa, perché con l'estendersi nell'automatizzazione non c'è più bisogno che il lavoro umano sia nella stessa dimensione, nella stessa quantità e quindi quell'obiettivo famoso di cui parlava un grande economista come Keynes negli anni 30, cioè di arrivare a lavorare al massimo 15 ore alla settimana, diventa una possibilità reale e non più una semplice utopia. L'incontro di oggi non è solo l'occasione per presentare una rivista, il numero appena uscito della rivista Alternative per il Socialismo, ma è per parlare di uno dei grandi temi che sta trasformando l'umanità in senso lato, non stiamo parlando del cambiamento climatico, non stiamo parlando delle trasformazioni della rappresentanza politica, stiamo parlando di un altro tema fondamentale, di come la tecnologia sta modificando il lavoro, ma non solo la tecnologia come è stata oramai conosciuta dalla classe operaria dentro a vari reparti e fabbriche, quella oramai è un dato acquisito dalla storia, non solo la tecnologia che ha modificato il modo di cambiare dei cosiddetti white collars, dei colletti bianchi, di quel certo medio impiegatizio delle banche, delle aziende industriali, della pubblica amministrazione, grazie all'informatica e alle telecomunicazioni, ma stiamo parlando di una terza ondata tecnologica, quella dell'intelligenza artificiale, ovvero sia della capacità di elaborare e di riflettere e di ragionare e di determinare azioni da parte delle macchine, in un certo qual modo sostitutive dei soggetti che hanno sempre intrapreso e hanno sempre detenuto il potere di decidere. Non è un mondo futuribile, questo già compare in diversi campi, negli Stati Uniti stanno sperimentando addirittura un giudice robot, cioè un giudice che prova a emanare sentenze sulla base di grandi data mining, sulla base di prove indiziarie che sono state accumulate ed elabora sentenze. Nel campo della sanità e della medicina vi sono oramai robot, chiamiamoli intelligenti, capaci e autonomi di sperimentare forme di intervento chirurgico e così questo mondo sta arrivando dentro le imprese industriali, dentro le imprese commerciali, dentro il mondo bancario. Quindi anche una terza classe sociale che possiamo dire era protetta da questa innovazione tecnologica ed anzi storicamente ne aveva tratto un geovamento, cioè la grande casta dei top manager, coloro che prendono le grandi decisioni nelle aziende, potrebbe essere dopo la classe operaia, dopo il certo impiegatizio, questa terza classe messa a dura prova in termini di lavoro perché questo mondo dell'intelligenza artificiale in un certo qual modo potrebbe arrivare a sostituirne perlomeno una parte. Dunque si va verso una società dove indubbiamente il tema del lavoro va analizzato e riflettuto con grande laicità di pensiero, sapendo che questo mondo della trasformazione tecnologica è un mondo che corre e che difficilmente riusciamo a frenare, e nessuno forse lo frenerà, ma dobbiamo immaginare una società che va in questa direzione con le conseguenze che vi sono in termini di distribuzione del reddito, di ricchezza, di opportunità di lavoro per i giovani e così via.